ciao oggi ci occupiamo di testi apriamo il nostro canva questa è ormai la conosci l'home page guarda che cosa c'è qui davanti c'è la sezione progetti recenti riconoscerai il primo progetto quello della copertina del libro che abbiamo utilizzato la prima volta è quello su cui stiamo lavorando per ritrovare i tuoi progetti puoi anche andare a vedere qui nella colonna di sinistra dove c'è scritto progetti se tu clicchi ecco qua i tuoi progetti e qui ci sono i progetti a cui stai lavorando o magari progetti più vecchi che hai realizzato molto tempo prima andiamo sul progetto presentazione gatto bene abbiamo detto che oggi parliamo di testi vogliamo aggiungere un testo aggiungere un testo è facilissimo e ti accorgerai che tutte le modalità per gestire un testo sono praticamente identiche a quelle che sicuramente già conosci per aver utilizzato programmi di scrittura sul computer voglio rendere evidente il pensiero del gatto che cosa faccio beh innanzitutto inserisco un fumetto ormai so come si fa vado su elementi per far prima cerco faccio un fumetto ed ecco qua mi vengono dati tantissimi fumetti di tipo diverso io sceglierò questo che è il fumetto che indica i pensieri eccolo qua noto subito una cosa però queste palline dovrebbero partire dalla testa del gatto ma se io sposto per farlo mettere qui mi esce che cosa posso fare semplicissimo capovolgi così impariamo un'altra cosa capovolgi orizzontalmente ecco fatto all'occorrenza io potrei capovolgerlo anche verticalmente ma adesso non mi serve bene l'ho messo dalla parte giusta perché io adesso lo posso mettere perfettamente qua ok per inserire un testo all'interno del mio fumetto o comunque per inserire un testo nella mia presentazione vado sull'icona testo e gli dico aggiungi una casella di testo vedi che succede esattamente quello che succede ad esempio in word che cosa facciamo dire al gatto gli facciamo dire slurp perché immaginiamo che abbia visto il topolino prendiamo il testo e lo trasciniamo all'interno del fumetto ti sarai accorto non solo oggi che tutte le volte che tu sposti un oggetto compaiono queste righette viola sono delle linee guida che ti permettono di collocare il tuo oggetto in modo più preciso ad esempio ecco in questo momento ti sta dicendo che dal punto di vista verticale sei esattamente nella metà del fumetto scritto così però slurp si vede poco allora cosa faccio seleziono il mio testo e vado nella barra che c'è qua sopra la prima casella è quella dei font cliccando scende questo menu a tendina e qui dentro c'è all'inizio il nome del font che è stato usato per scrivere la parola slurp poi ci sono dei font consigliati va bene ci sono i font che sono stati usati recentemente questo può essere utile perché perché io potrei non ricordarmi il nome del font siamo sinceri è difficile ricordare il nome di un font perché magari l'abbiamo usato solo quella volta lì però ci piace allora o andiamo a scorrerli tutti fino a che non troviamo quello giusto oppure vado a vedere quelli recenti che ho utilizzato e trovo sicuramente quello che mi interessa altrimenti da qua partono tutti i font che il programma mi mette a disposizione sono veramente veramente tantissimi e ci soffermiamo su questo il grassetto c'è già vedi che qui non te lo evidenzia perché significa che il grassetto fa già parte di quel font quindi non si può mettere un altro grassetto non si può nemmeno togliere si vede già molto meglio direi però è ancora piccolino allora evidenziamo io posso ingrandire usando questa maniglietta da una parte e dall'altra ma avrei potuto farlo anche utilizzando questi due tasti quindi diminuisci se clicco oppure aumenta questo mi serve se io ho bisogno di inserire una misura molto molto precisa altrimenti posso cliccare e scegliere qui se io so già che il mio testo deve misurare 80 punti clicco 80 e ce l'ho già perfetto quindi vedi che hai tre possibilità usare la maniglietta usare questo che te lo diminuisce di poco poco per volta vedi un punto per volta oppure se conosci il numero esatto entrare qui dentro un'altra cosa che io posso fare al mio testo posso cambiargli colore posso cambiargli colore utilizzando dei colori predefiniti che mi vengono già dati posso utilizzare i colori predominanti in questa presentazione posso invece cliccare qui e andare a scegliere il colore che voglio per scegliere il colore io posso trascinare questo pallino vedi che mentre io trascino qua se osservi la parola che abbiamo scritto cambia ok qui siamo nella tonalità dei rossi ma io potrei ecco mi metto nella tonalità dei verdi ed ecco che posso manovrare in questo modo la stessa cosa a seconda di come mi sposto vedi anche un'altra cosa che se io mi sposto in questa casella cambiano i numeri questo è il codice del colore vedremo in un tutorial più avanti a che cosa mi serve e quando è utile usarlo stessa cosa questa pipetta questo contagocce se io clicco sul contagocce e poi mi metto in una parte della mia foto ad esempio qua dove c'è il piatto clicco e lui che cosa ha fatto con questo contagocce ha preso questo colore che ha individuato in questa zona e l'ha utilizzato ecco qua per colorare la mia parola vedi che è lo stesso colore di questo piatto anche qui nella prossima lezione capiremo perché è importante imparare a utilizzare la pipetta benissimo allora torniamo sul colore diciamo che adesso tanto per far vedere utilizziamo un colore più più forte più semplice ok abbiamo deciso la grandezza abbiamo deciso il colore che cosa possiamo fare con questa con questa parola il carattere il font che abbiamo scelto non ci permette di aggiungere il grassetto perché c'è già non ci permette di rendere corsivo il nostro testo perché è un font che imita la scrittura umana però io potrei aver bisogno di sottolineare il testo potrei aver bisogno nel caso magari di una frase un po' lunga di metterlo tutto maiuscolo o tutto minuscolo questa è una funzione molto comoda perché magari io ho scritto una frase un po' lunga poi quando la vedo scritta cambio idea voglio metterla tutta maiuscola magari e anziché riscriverla da capo cancellarla e riscriverla da capo utilizzando questo tasto vedi io posso cambiare maiuscolo minuscolo e poi ci sono i soliti i soliti tasti di allineamento se voglio metterlo al centro se voglio metterlo all'inizio della mia casella questo significa che io posso inserire un elenco puntato questo mi serve per spaziare le righe e poi ho anche degli effetti mi si apre al solito la colonna di sinistra io col mouse passo e vedo quello che succede allora in questo caso ho scelto ombra vedi che si è creata un'ombra più chiara io posso agire su quest'ombra aumentandola oppure diminuendola posso decidere se l'ombra è dopo o prima della scritta posso decidere se la voglio un po' sfocata ecco o se voglio i contorni precisi posso anche decidere il livello di trasparenza quindi se la voglio più leggera o se la voglio un po' più marcata quindi lo stile mi dà l'ombra o l'ombreggiatura che è qualcosa di meno definito ma io potrei anche decidere di tenere solo il contorno quindi svuotare il colore all'interno e tenere solo il contorno di spostarlo e anche qua poi lo posso al solito modificare vedi riempiendolo di più o spostandolo in modo che si veda più vuoto oppure posso fare l'effetto eco quindi vedi che ci sono veramente tante possibilità posso cambiare il colore dell'ombra quindi il contorno rimane del colore che ho scelto per la scritta ma l'ombra io posso cambiarla di colore quindi posso fare degli abbinamenti posso renderla anche più scura benissimo posso fare l'effetto neon vedi che sembra quasi una qualcosa che si accende no beh adesso nel nostro caso non serve a niente oppure posso creare uno sfondo dietro la parola anche questo potrebbe potrebbe servire infine posso addirittura piegare il mio testo va bene torniamo indietro ho finito la mia la mia pagina vediamo come viene l'effetto presenta standard ah e qui mi accorgo che c'è qualcosa che non va perché è entrato il gatto ma il fumetto era già dentro la mia pagina non va bene devo stare attenta a questi errori allora devo agganciare tutta questa roba all'immagine del gatto come faccio semplicissimo clicco con il tasto sinistro del mouse trascino in modo da prendere tutti e tre gli elementi vedi che è stato evidenziato il fumetto la parola e anche l'immagine del gatto vuol dire che adesso io li sto prendendo in considerazione tutti e tre insieme vado sulla mia animazione gli dico che tutti questi voglio che entrino dal basso ecco fatto però c'è ancora qualcosa che non mi convince osserva la scritta non dovrebbe arrivare dal basso la scritta dovrebbe essere insieme al fumetto allora facciamo un'altra cosa evidenziamo sia il fumetto che la scritta e poi gli dico raggruppa cosa ho fatto io vedi che non è più evidenziata la scritta io ho raggruppato questi due elementi significa che questi due elementi adesso non si possono più staccare finché non glielo dico io ovviamente proviamo se io ne sposto uno si sposta anche l'altro evidenziamo adesso gli elementi che sono diventati due vedi la differenza con prima il gatto il fumetto vado su animazione gli dico che tutta questa roba deve entrare dal basso vedi che adesso entrano insieme questi due adesso si che la cosa è corretta il mio ingresso è corretto adesso però io vorrei mettere un titolo a questa a questa mia storia quindi visto che sono in una presentazione non faccio altro che cliccare qui in basso e dirgli aggiungi una pagina ecco fatto questa diventerà la copertina allora già c'è qualcosa che non va perché se è la copertina non può essere qui allora che cosa faccio non faccio altro che andare sopra la pagina numero due cliccare col tasto sinistro del mouse e spostare all'inizio della mia presentazione questa pagina torniamo sulla nostra colonna del testo oltre ad aggiungi casella di testo qui mi vengono dati anche delle parti già pronte o addirittura dei dei testi precompilati potremmo chiamarli così già pronti per essere utilizzati come titoli ovviamente quello che trovi scritto è assolutamente indicativo perché io lo posso cambiare come voglio adesso lo vediamo però diciamo che io già qui posso vedere un po' avere un colpo d'occhio di quello che io voglio realizzare allora vita da gatto e poi ci sarà sicuramente un sottotitolo questo vedi quello che succede io clicco sopra il testo già pronto e lui me lo riproduce qui adesso però io lo posso cambiare come voglio e allora cambiamolo intanto nota che ciascun elemento è separato quindi io lo vedo tutto insieme me l'ha dato tutto insieme però io posso cambiare ogni singolo elemento allora per prima cosa lo ingrandisco perché così lavoro bene ok lo ingrandisco e lo metto al centro vedi ecco quando compare questo significa che io l'elemento che ho spostato l'ho messo esattamente al centro della pagina ok dunque impara cucina con lo chef non mi interessa perché io ho detto che il mio lavoro si chiamerà vita da gatto posso decidere di mandarlo a capo posso decidere che questo font però adesso che lo vedo così mi piace poco questo che è quello che abbiamo usato prima lo ingrandisco ancora un po' esatto perfetto vita da gatto bene qui non metto le informazioni ma qui sotto scriverò di luigino Rossi perché io sono l'autore e qua invece scriverò pensieri di un gatto casalingo questo lo voglio mettere però nello stesso stile del titolo quindi clicco ok questo lo rendo un po' più grande perché è il titolo del mio lavoro perfetto luigino Rossi lo possiamo anche lasciare così bene centro di nuovo il mio oggetto benissimo io avrei potuto anche utilizzare anziché questi utilizzare questi è la stessa cosa semplicemente prendo gli elementi in modo singolo aggiungi un'intestazione è una casella di testo grande che viene utilizzata di solito per scrivere il titolo vedi che è molto grande se poi voglio mettere un sottotitolo ad esempio nel nostro caso era pensieri di un gatto casalingo avrei potuto cliccare questo vedi che ti dà un carattere già pronto leggermente più piccolo poi l'autore potevo aggiungere corpo di testo ecco qua spostiamolo ecco vedi che è ancora più piccolo quindi io posso sia partire da qualcosa di già pronto sia semplicemente utilizzare queste tre scelte che sono già predisposte con delle dimensioni diverse tra loro allora le cancelliamo perché adesso non ci servono ok e teniamo il nostro questo titolo però è abbastanza triste con questo bianco dietro allora aggiungiamo uno sfondo se è la prima volta che apri Canva potrebbe capitare che qui sfondo non lo trovi non fai altro che cliccare dove c'è scritto altro e tra queste cose troverai sfondo che è questa icona qua a righine la colonna è uguale alle altre icone allora io qui posso inserire una parola per cercare una immagine che voglio mettere come sfondo qua mi vengono dati già dei colori vedi se io li clicco mi viene dato un colore di sfondo già impostato se tra questi colori che mi vengono già dati predefiniti non ce n'è uno che mi piace io posso tranquillamente cliccare sulla prima icona quella della tavolozza e oltre ai colori predefiniti trovo sempre questa iconcina qui e sempre con lo stesso stile che abbiamo fatto prima io vado a cercare un colore una sfumatura una tonalità che mi piace di più oppure io posso utilizzare ciò che mi viene proposto tipo questi non so tipo marmo tipo carta tipo muro oppure delle immagini allora è evidente che io dovrò andare a cercare delle immagini che si combinano in modo adatto a quello che che devo che devo rappresentare vedi che qua ti viene sempre usati di recente perché questi sono quelli che abbiamo che abbiamo scelto se io ho già in mente qualcosa ad esempio voglio che il mio sfondo mi ricordi la pagina di un libro di un quaderno io nella casella di ricerca posso inserire carta e lui mi raggruppa tutti gli sfondi che mi ricordano una pagina di carta vedi io poi non faccio altro che scegliere quello che voglio allora lasciamo questo che dà l'idea del cartoncino ovviamente è un esempio la stessa cosa però io la posso fare inserendo una foto come abbiamo visto prima nella pagina precedente ti ricordi che abbiamo inserito la foto della cucina o posso crearmi lo sfondo utilizzando un colore abbiamo visto e poi inserendo degli elementi ma anche qui posso inserire degli elementi e ci mettiamo ad esempio questo qua che è molto carino ok ops questo qua che è molto carino lo rimpiccioliamo un attimo ecco qua vita da gatto sta proprio bene perfetto e ho creato la copertina del mio lavoro allora vediamo se abbiamo fatto tutto giusto presenta ecco qua questa è la copertina e questa è la prima pagina del mio lavoro abbiamo visto come si possono utilizzare i testi io ti ho indicato solo ed esclusivamente le indicazioni principali perché imparerai a utilizzare tutte le funzioni di Canva semplicemente pasticciando pasticciando provando e facendo degli esperimenti la volta prossima parleremo dello stile di una presentazione per adesso buon lavoro di un sufrimi